C'è anche un leccese tra i vincitori del quattordicesimo torneo internazionale under 12 trofeo Maglio Cioccolato Italiano, che si è concluso ieri presso il circolo tennis di Maglie. Si tratta del dodicenne Alexander Gammariello, che ha trionfato nel doppio maschile in coppia con il romano Giuseppe Bonaiuti, classe 2003. La tappa salentina del tennis Europe Junior Tour ha visto inoltre sul podio per il singolare maschile Giorgio Tabacco, siciliano e tesserato per il circolo tennis Vela di Messina, che ha superato Ivan Lacava, tesserato TC Ateneo di Napoli con un punteggio di 6-0, 6-3. Nel singolare femminile si è imposta Matilde Paoletti, classe 2003, tesserata TC Perugia, che ha avuto la meglio sulla russa Alina Scherbinina. Infine, nel doppio femminile, ha trionfato la coppia Carlotta Mancegaglia, Eur Roma e Sofia Pizzoni, tennis training Foligno. Il torneo, oltre ad aver celebrato le promesse del tennis mondiale, ha evidenziato la correttezza sportiva dei giocatori. Nel corso della premiazione, il presidente del circolo tennis Maglie, Carlo De Iaco, ha sottolineato l'importanza di seguire i giovani nella crescita attraverso lo sport, da parte di tutti i maestri, tecnici, accompagnatori e genitori, che in questa competizione hanno trasmesse valori fondamentali per la formazione dell'adulto di domani. Commenti positivi arrivano anche dal presidente del Comitato Provinciale Federazione Italiana Tennis, Elio Pagliara, che rimarca il grande successo del torneo, che ha ospitato, come ogni anno, giocatori di buona qualità, che appena saranno maggiorenni potranno scalare le classifiche mondiali. Un bilancio finale lo ha tracciato Antonio Baglivo, direttore del torneo, il quale nota con soddisfazione l'elevato livello tennistico visto in campo.